Dietro di lei la scritta Technology Flow, ma che cosa significa? Significa che FIT, che è un'azienda completamente italiana che opera dal 1969, si pone ancora una volta all'avanguardia con i prodotti dedicati al ciclo idrico integrato. Il rapporto con le utilities? Il rapporto con le utilities è da sempre una parte di quello che è il percorso di FIT. Noi siamo all'avanguardia per quanto riguarda la ricerca sulle tubazioni in PVC non plastificato e da poco con le tubazioni in lega polimerica che si portano verso le utility in termini di risparmio e di durabilità delle reti nel tempo. Due numeri sulla vostra azienda? Siamo un'azienda a oggi multinazionale con 850 addetti, un fatturato molto importante che sfiori 300 milioni di euro, un'azienda che si è espansa nel mondo con collaborazioni dal Giappone agli Stati Uniti.